E' la prossima, signore, signore, signorine, guardatelo lì, non posso dire come di Massimo che è bello, direi una bugia, però intelligente, ecco, intelligente, signore, signore, signorine, Sergio Reggio, Massimo Eccchio, Cristiano Durato, Cinco Pazzoni, Deremo Campani, Mastro Peppe e Carletti, a busta d'olio e tanto per pervi, e a voi tutti, grazie a tutti, a tutti, alla prossima. E' la 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 prossima. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.